Ciao Lorena! Ciao Clara! Siamo qui oggi per parlarvi della bellissima esperienza fatta durante il laboratorio storytelling e comics al quartiere San Giovanni Apostolo di Palermo. La Quinta Elementare ha realizzato un fumetto d'avventura mentre invece la prima media ha realizzato un fumetto horror. Con due strumenti, il primo l'albo illustrato di David Witter, ma che lì è il titolo di Rosario Cerbo, il secondo invece Ida di Cantastole. Il laboratorio svolto sicuramente ci ha lasciato molta voglia di fare. I ragazzi hanno bisogno di queste attività che sono finalizzate allo sviluppo della loro creatività, della comprensione del loro quartiere. Quello che lasciamo ai bambini e ai ragazzi è la narrazione, raccontare gli abitanti di quel territorio e soprattutto della propria storia anche biografica. Vi ringraziamo e vi salutiamo. Ciao a tutti! Grazie, ciao! Grazie a tutti!